Il video di Fedez su Mario Giordano Io voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto Me lo domando da una vita Se lo domandano in tanti secondo me Ciao Marietto, ciao Marietto Caro Fedez, intanto la volevo tranquillizzare I testicoli si sono tranquillamente staccati, è tutto regolare E per quanto riguarda la voce, sì, lo so È un mio difetto fisico, l'ho già detto anche altre volte qua È un difetto fisico che peraltro mi ha anche fatto a lungo soffrire nella mia vita E così, è un difetti fisici C'è chi ha un dia e chi ne ha io ho questo difetto Mi stupisce però che lei, il paladino dei diritti civili Il grande difensore sul palco di Sanremo della civiltà Lei si è attacchi ai difetti fisici degli altri